Il nuovo governo di transizione dello Yemen ha prestato giuramento, un governo che dà un'ampia rappresentanza all'opposizione, della quale fa parte il nuovo primo ministro Mohamed Basindawa, che ha assunto formalmente la carica dopo la cerimonia preseduta dal vicepresidente Abderabou Mansour Hadi, al quale il presidente uscente, Ali Abdullah Saleh, aveva trasmesso il potere in base all'accordo firmato recentemente a Riyadh. Il nuovo esecutivo ha il compito di guidare il paese fino a febbraio, quando Saleh lascerà ufficialmente il potere aprendo la strada a nuove elezioni, ma deve fronteggiare da subito l'endemica guerriglia secessionista al sud, dove anche nelle ultime ore sono rimaste uccise 11 persone, e una rivolta sciita al nord, oltre alle minacce di Al-Qaeda, e una protesta che nonostante l'accordo non cessa, i manifestanti contestano l'immunità concessa a Saleh, 32 anni di semi di tattura, dicono. Devono concludersi in un processo.